Ma perché non venite davanti? Si è colpa piena. Sono tutti abbassati, forse. Su, vante, là nell'angolo! Dai, sì! Bene, va! Eh, si è già più concerto, così costringete loro da zanzi in piedi. È una figata, no? Signora, resti a comoda, eh? Io ne vedo lo stesso, grazie. 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 Grazie.